Ok raga, bello a tutti, ecco il gameplay, la data d'uscita è prevista per il 14 novembre del 2018, quindi ragazzi, tra pochissimo, ecco tutti i video della volta che vi spiegheranno il gameplay di Fallout 76, sì ragazzi è un multiplayer, Todaward ha detto che si giocherà in dozzine di giocatori, non si è capito bene quanti, ci sarà la possibilità di giocare sia in single player che in multiplayer, non si è ancora ben capito come, Todaward ci dice che è enorme, più grande di tutti i giochi della Bethesda messi insieme, sarà diviso in 16 settori, se non diventerà un play to win, sembra un bel gioco ragazzi. e ogni razza, color e creed, ma tutti hanno un'altra cosa molto importante, sei il questo mondo è il migliore e il brightest, ma più importante, sei sempre la mia famiglia. I mostri sembrano una figata però, a parte è sto tipo che ti fissa. E' con pvp ragazzi, siamo sotto attacco dalla vendetta di Preston Garvey. Una cosa negativa è che non si è capito bene come risolveranno la situazione dello staff, potrebbe non esserci. Che inizia a te, sport, non tutti i 6 dwellers di Vault 76 sono generalizzati, lo fisseremo tutti e ne finalmente agite. Siamo passati a uscire di sviluppo o con i amici, Your days will be filled with fun activities c'è un bradipo gigante invece per costruire i nostri insediamenti c'è il camp un'officina portatile potremmo fare il nostro insediamento dove vogliamo potremmo prendere e costruire il nostro insediamento velocemente per difenderci da mostri o da altri giocatori ma non diventate troppo attaccato troppo velocemente monitora il tuo ambiente per qualsiasi cosa fuori c'è stanno pure i draghi ma che ci fanno i draghi after a crisis work with your neighbors to ensure success there's no eye in nuclear waste glass document your adventures your memories will shape the new american dream what's that sound there goes the neighbor safety of your vault the world you know will have changed take your friendly old neighbor johnny rather than coming over to borrow a cup of sugar he may now be coming over for murder the time has come to seek out greater means of protection nuclear armaments that's right courtesy of your uncle sam these wonders of the atomic age can be found right in your own backyard but how does a fellow like you acquire nuclear weapons you may ask begin by inquiring with the locals gently coax them into cooperation use a little elbow grease if you have to ecco poi ci saranno queste strane chiavi che sono molto rare da trovare ma se si trovano altri quattro giocatori con queste chiavi si potrà avere accesso a una base missilistica e si potrà attaccare o un insediamento nemico oppure creare una black zone un posto dove spawnano mostri giganteschi con la power of the atom at your fingertips be responsible and consider your target carefully attention launch sequence activated cioè ragazzi lanci proprio detestate nucleari e un po' è stata un po' una delusione ma un po' ci spero ragazzi potrebbe uscire qualcosa di figo ma io che giochiamo insieme a fallout ma una figata ok raga spero che il video vi sia piaciuto il prima possibile caricherò un'analisi più dettagliata raga ma sono le 5 di mattina e non ci so che vi più un cacchio iscrivetevi al canale grazie a tutti